gli amici di simone tanturli propongono una serata dedicata alla famiglia ma anche con una certa ironia insieme a paolo cevoli uno spettacolo bello e entusiasmante si diciamo che è l'ultimo spettacolo di paolo e in esclusiva per la liguria come sempre essendo un grande amico lo fa per noi lo fa per l'associazione uno spettacolo un po particolare perché comunque parte da una sua esperienza di sua figlia diciamo che un giorno gli ha detto guarda non voglio fare i compiti all'oste mi sa farli lui e da lì si è fatto un po di domande è andato dietro nel tempo fino ad arrivare alla sacra famiglia lui l'ha chiamata sacra famiglia e quindi come sempre con l'ironia di paolo molto bella molto semplice ci viene in aiuto per i nostri scopi per per i nostri progetti come sapete noi aiutiamo le famiglie con bimbi speciali praticamente nel loro periodo scolastico con un sostegno e quindi quest'anno partiamo con un progetto triennale appunto si chiama così sostieni con noi sostegno e questo sarà il lancio proprio di questa cosa qua lo spettacolo il 22 di febbraio al teatro sociale di camogli ma le prevendite sono già aperte esatto qua a chiavari presso la nostra sede che in via vinelli 28 tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno troverete dei volontari che vi aiuteranno a trovare il posto il martedì mercoledì e giovedì invece al pomeriggio dalle 16 alle 18 in più quest'anno stiamo aiutati dalla proloco di camogli loro tutti i giorni negli orari appunto di ufficio hanno la possibilità di darvi dei biglietti venire dei biglietti anche loro bellissima è la seconda volta che andrò a vederlo e vedrò che la terza chagra famiglia